Quando Rameoni dice uccisi perché italiani, certamente sa benissimo che quegli italiani che furono uccisi per rappresaglia a quello che i partigiani avevano fatto in mia rasella sapendo che ne sarebbe derivato un... Non è stata una pagina nobilissima della Resistenza, non è stata la più nobile. Anche perché quelli che vennero uccisi non erano biechi nazisti delle SS, ma erano una banda di semi pensionati, una banda musicale, italiani peraltro, altuatesini. Sono andato a rendere omaggio al monumento dei partigiani al cimitero Maggiore, ho portato Mazzo di Fiori a tutti i partigiani, non solo ai partigiani che già ha sorrento, partigiani bianchi, dà di fiore a tutti i partigiani, anche ai partigiani rossi che come è noto...